La visita romana del governatore della regione Fedriga, impegnato in un'audizione davanti al comitato parlamentare per il controllo dell'attuazione dell'accordo di Schengen, ha portato a diversi spunti che ruotano attorno al tema della rotta balcanica. In primo luogo la dichiarazione del presidente del suddetto comitato, Eugenio Zoffili, che ha annunciato la volontà di proporre all'ufficio di presidenza di venire anche al confine del Friuli Venezia Giulia per verificare di persona, sul posto e tra la gente, la situazione della rotta balcanica. La possibile visita in regione del comitato seguirebbe quella effettuata a Ventimiglia e quella in programma il 22 e 23 luglio a Lampedusa. Nel corso della giornata Fedriga ha avuto modo di ribadire le difficoltà del confine orientale, con il rafforzarsi della rotta balcanica e evidenziando situazioni di particolare tensione in Bosnia e Herzegovina, dove esempio in un accampamento vicino alla Slovenia ci sarebbero fra i 10 e i 15 mila migranti, prevalentemente di etnie afghana e pakistana, una rotta che inoltre interessa particolarmente Trieste, dopo lo spostamento da Gorizia al capoluogo regionale della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. È stato predisposto un aumento del personale da parte del Viminale, ha aggiunto il governatore, commentando anche le relazioni con l'Ungheria, su precisi domande dei parlamentari, dove Fedriga ha ringraziato il governo ungherese perché ha fatto quello che prevede Schengen, ovvero anche il presidio dei confini europei.